si è rotto mi è arrivato il tuner crate oddio da qui mi era già arrivato così rotto però è una figata cioè io ho trovato il codice sconto da sami kai su instagram che è una strafica della madonna vabbè e niente questo qui è un primo unboxing vediamo cosa cosa mi capita c'è un bel mercedes credo che sia il pacco europeo c'è macchina e clips di paul walker e dietro ci sono tutte le altre da collezione questo qui me la tengo un botto ok poi sticker 417 va bene un altro sticker poi nella scatolina tutte le cosine belle poi cosa c'è un panno oh mio dio questo qui è per togliere la polvere dalla macchina ok mi serviva non lo dovrò più comprare su amazon perfetto l'arbre magic oh mio dio anche questo non lo dovrò più comprare in giro ma che figata però ha tipo le griglie di argomigno tipo le auto da corsa ok poi c'ho una maglietta è caduta la penna un ottimo winning is winning bellissimo cos'è no è un centimetro no mio dio non so se vabbè comunque è un centimetro che figata si vabbè c'è scritto medicino però vabbè metterò a controllare cosa cosa sarà qui un mini poster della saga dei fast and furious è caduto tutto ok maglietta maniche lunghe bellissimo guardate dietro si vede si vede bella mi piace adesso me la metto la vedete tuner crate donna che figata ci sta un botta c'è anche sulla manica winning is winning poi dovevo una carta questo modo dove comprare come gioco poi oh mio dio dominic toretto oh mio dio che figata vabbè un botta figo in camera c'è un'altra maglietta vabbè cosa che sarà maglia no beh aspetta no dai che figata la lambo con scritto tuner c'è un attimo madonna che figata che figata troppo bello poi cosa c'era finito finito niente la roba è qui questa cosa che dovrò scoprire che cos'è la roba è magic che mi serviva il panno per la polvere quello che puoi prendere ho capito cos'è no beh è una figata sta cosa vabbè comunque l'auto di poi walker c'è di poi walker di brian cosa sto dicendo vabbè toretto e poi cosa c'è basta finiti sì finiti mamma mia che figata va bene non so perché stanno uscendo un botto di gli scatolotti così tipo unboxing fighi di auto e visto che comunque ci siamo perché non non aprirli insieme no e niente io vi saluto e spero di trovare un altro tuner create o ho visto anche su super street che hanno fatto una cosa del gemere e niente ci becchiamo bella grazie a tutti